Buonasera a tutti, Vuelta a Espagna 2023, tredicesima tappa, da Formigal al Tourmalet, 135 km, tappa reggina di questa edizione della Gran Bucle con quattro Gran Premi della Montagna, subito il portalette che segna il confine tra Spagna e Francia, una salita pedalabia di 4,4 km al 5,4 per cento, ma poi il Col d'Opisc dal versante più impegnativo, 16,6 km al 7 per cento, discesa, si sale leggermente verso e su l'oro, ancora discesa, una salita molto dura anche se abbastanza inedita come il Col d'Espandel, 10,4 km all'8,1 per cento, ancora discesa, una ventina di km di falso piano all'insù e poi la salita iconica del Tour de France, il Tourmalet, affrontato dallo stesso versante che vide la vittoria di Thibaut Pinot al Tour nel 2019 e quella di Andy Schlegge davanti al Contador nel 2010, e una salita di 18,8 km al 7,4 per cento, la salita pienaica per Antonio Maci appunto del Tour de France insieme anche allo stesso Opisc. Una tappa completamente diversa rispetto a quelle impegnative che già c'erano state in questa volta, perché? Perché nelle altre tappe precedenti abbiamo visto spesso una sola salita o poco più, ovvero quella finale, mentre qui c'erano salite dure e salite dure anche all'inizio della tappa, l'Opisc che ha posto dopo 49 km, e quindi era lecito attendersi valori in campo differenti rispetto a quelli che ci sono visti fin qui, e tutto sommato, così è successo, come vedremo, è successo molto in questa tappa, e andiamo però, facciamo un passo indietro, andiamo a vedere che è successo nella dodicesima tappa, tappa che si è conclusa a Saragozza, partenza da Olbega, 150 km, tappa per velocisti, Molano lanciato benissimo da Uriveira, e il portoghese se avesse potuto fare la sua volata avrebbe vinto lui, probabilmente, e Molano va a vincere davanti a Caden Groves, che invece è stato lanciato malissimo questa volta dai suoi compagni, che semplicemente non hanno retto l'accelerazione finale di Olbega, in particolare Ghis, che non a caso non è partito nella frazione odierna verso il Tourmalet, Groves ha anche perso il pedale, era in rimonta su Molano, ma probabilmente non sarebbe comunque riuscito a batterlo, e quindi stavolta Magliaverde ha dovuto accontentarsi della piazza d'onore, terzo Boyman Poppel, quarto appunto Uriveira, quinto Tenus, poi Vandenberg, De Inese, Aular, Page e Menter, tutte le tetti che abbiamo visto nelle prime posizioni, anche nei precedenti odi del Rio, delle tappe, e si sono concluso in volata, certo da Alberto De Inese ci attendevamo diciamente di più in questa volta, sulla carta lui è tra i primi tre velocisti al via di questa grande costa a tappa iberica, da segnalare, tutti gli uomini di classifica sono arrivati insieme al taguardo, da segnalare che c'è stata intorno a metà percorso una caduta di Almeida, il portoghese della UE, poi ci ritorneremo, ecco qua la classifica generale, con Cus sempre leader, 26 secondi su Soler, 1.09 su Venepul, 1.32 su Roglic, 2.02 su Lenny Martinez, 2.16 appunto su Almeida, 2.22 su Wingard, 2.25 su Ayuso, 2.50 su Mas, 3.14 su Vlasov, 3.21 su Landa, quindi distacchi ancora non enormi, quantomeno tra i primi 11. Distacchi che ci si attendeva che cambiassero radicalmente in occasione di questa tredicesima tappa. Eccoci qua, poi riprendiamo la grafica del percorso, sul portalè subito tanti scatti, come è prevedibile, ma non c'è selezione, i corridori sono ancora freschi, appunto la tappa è appena partita, Bardè transita per primo, prova anche ad andarsene da solo nella successiva discesa, ma viene ripreso, i corridori da Jumbovisma fanno buona guardia, sempre nelle prime posizioni, tenendo un passo costante e andando a riprendere tutti i corridori che ci provano, tre corridori più attivi, abbiamo visto ad esempio il campione tedesco Buchmann, ma anche Garen Thomas, abbiamo detto di Bardè, e sulla Bisc riesco ad andarsene dopo tanti scatti, quattro corridori, appunto Stoller, che abbiamo visto sempre nelle ultime posizioni, negli ultimi giorni evidentemente puntava su questa frazione, lo scalatore della gruppa Ma, e poi ancora Christian Rodriguez, Rom di classifica dell'Archea, Elisond, altro scatole pure della Littrec, e Kron, il già vincitore di tappa a Barcellona, questi quattro riescono a prendere un leggero margine di vantaggio, dietro la Jumbovisma si mette a tirare, e a un certo punto succede qualcosa di grosso, perché ci sono ancora 80 corridori, comunque nel gruppo Maglia Rossa, e a un certo punto vediamo Almeida, nelle retrovie, che si stacca praticamente. E non è una sorpresa in senso assoluto, probabilmente il portoghese ha risentito appunto della caduta, poi poi ne capiremo di più magari nei prossimi giorni, a seconda delle sue dichiarazioni. E poi Almeida, che è un corridore fondista, viene fuori alla distanza, eccetera, probabilmente ha pagato il fatto che ci fossero salite nella prima parte della tappa. Gli è successo anche in passato, ricordiamo sempre il giro di Catalogna un anno fa, era leader della generale, però fu attaccato da lontano da Carapazza e Gita, e perse quella con la corsa a tappe. A proposito, il Gita molto deudente, si è staccato molto presto oggi, proprio sulle lampe del Coldobisque. Almeida si stacca, come nel suo solito non molla del tutto, piano piano supera i corridori, che invece cedono di schianto. A un certo punto Almeida lo vediamo in un gruppo di una ventina di corridori, che si è staccato dal gruppo tirato da Jumbo Fisma, ad andatura apparentemente non sostenutissima. E vediamo in questo gruppo Ganna, Sobrero, Felline, la maglia Puadi e Rada, che quindi si è staccato presto, anche se Pulvera, il secondo di aggressivo degli scadoli, che si è staccato dopo che aveva provato a scattare sul portalette. Però in questo gruppo di 20-30 corridoi, all'improvviso troviamo tanti compagni di squadra di Evenepul, quindi Vali Cattano, Yurt per Vega, e la cosa non è normale, e a un certo punto viene inquadrato, vengono inquadrate le prime posizioni di questo gruppo, e troviamo proprio Evenepul in crisi nera, che si stacca da un gruppo comprendente, appunto, ancora quasi 80 corridoi, 60, 70, quelli che saranno stati, comunque tantissimi. Evenepul cede di schianto, a un certo punto addirittura perde le ruote anche di questo gruppetto, mentre Almeida prosegue con il proprio passo, cerca di rientrare. Si mantiene sempre a 20-30 secondi dal gruppo della Maglia Rossa, nel quale nel frattempo gli Umbo-Visma, accortosi della crisi di Evenepul, hanno aumentato l'andatura, però anche Almeida non riuscirà mai più a rientrare, nonostante che verrà atteso dai compagni di squadra, prima Novak, poi successivamente, ma molto più tardi nella tappa anche Fisher Black, e quindi, nulla da fare per Almeida, e nulla da fare soprattutto per Evenepul, era da tantissimo tempo che non vedevamo una crisi nera, così, del leader generale, ovviamente, un corridore accreditato che montava a vincere la Vuelta. Mi viene in mente, non lo so, forse, non dico basso sullo stevio del Giro 2005, che fu ancora più clamoroso, ma lì il corridore valesino stava male. Non so, viene in mente Beloki sul Port d'Invalia alla Vuelta del 2001, anche lui crisi nera, anche lui stava male, anche il corridore basco si ritirò qualche giorno dopo. Se di fatto che Evenepul esce di scena, arriverà con un distacco pesantissimo oltre a guardo, un crollo del tutto inatteso, quello del giovane fuori classe belga, davanti quindi sempre a Jumbo Wisma, con Gesink a fare andatura, Gesink che su Coldobisca, tra l'altro, ha già vinto la Vuelta, era il 2016, quella Vuelta l'ha vinto a Nairo Quintana, evidentemente il veterano olandese a buoni ricordi su queste strade, ed è stato lui a scandire il passo appunto lungo la prima salita, rimangono una trentina di corritori, e nella successiva discesa vengono ripresi i quattro che erano rimasti al comando, quindi i vari Storer, Cron, Elisande e Rodriguez, discesa dove si mette davanti a un certo punto la Bahrain Victorious, che ha fatto già di questa azione in passato, ricordiamo quella celebre di Caruso, il Giro d'Italia, insieme a Peo Bilbao, nella tappa dell'Alpe di Motta nel 2021, apparentemente a Bahrain tirava per impedire ad Almeida di rientrare, Almeida rivale diretto di Landa chiaramente, non tanto a Venepul, facciamo perdere Venepul che ormai aveva già un distacco abissale in cima a Robisca, i minuti erano già due di ritardo della Chiavo che erano destinati ad aumentare, però Almeida era sempre lì a poca distanza, insieme a Novak che cercava di riportarlo dentro, e quindi l'azione della Bahrain Victorious sembra finalizzata a questo, e invece si è trattato di attacco vero e proprio, con Caruso e Landa scatenati, prontissimi però i corridoi della Jumbo-Visma, Wingard e la Maglia Rossa di Cussi, avevo qualche dubbio sulle qualità di Cussi in discesa, invece oggi si è dimostrato pienamente all'altezza della situazione. Questi quattro corridoi hanno preso un po' di margine e hanno approcciato davanti a tutti il Coldest Bandel, ripeto, quattro big, in particolare Wingard e il leader della generale Cuss c'erano, oltre a Landa e Caruso, sempre Caruso a fare il ritmo, i uomini della Jumbo-Visma non hanno collaborato a questo tentativo di azione, e dietro si è messo a tirare chiaramente la UAE con Fisher Black, unico gregario rimasto ai due capitani che erano ancora nel primo gruppo, vuole dire Soler e Ayuso. Quindi forcing della UAE, tanti corridoi si staccano, alcuni di questi avevano attaccato in precedenza, come Garen Thomas, ma anche lo stesso Bardet, anche Bernal, anche se è stato tra gli ultimi, a cedere il colombiano del T-Minus, e anche Martinez però va in difficoltà, Martinez che se non erro era sesto nella classifica generale ed è stato, ricordiamo, Maglia Rossa, e rimangono in pochi comunque gli atleti della UAE, portandosi dietro gli altri uomini di classifica, quindi Massi, Blasov, ovviamente Roglic, riescono a chiudere sul quartetto, appunto, sul quartetto che raccomando, dove Landa però riparte, un Landa oggi molto propositivo e gli va dietro Wingard, questi due di nuovo guadagnano un po' di terreno, Cus questa volta lascia fare, dietro per un attimo ci incischiano, però poi rientrano Soler, Mass, Cus e Wit de Brox, oggi molto brillante il giovane belga del team Bora, ha chiuso un po' di difficoltà, tanto è vero che non riesce a rientrare in un primo momento, viene riportato dentro ancora una volta a The Fisher Black, ancora più in difficoltà a Blasov, però poi rientrano, c'è anche Steph Crossy, la leader della Totale Energis, e Landa e Wingard, nel momento che la Jumbovisma ha la maglia di leader, infatti che cosa è successo? Che nel momento in cui la situazione si è ricompattata, si è formato questo gruppo di una decina di atleti, è arrivato anche Kelderman, sempre della Jumbovisma, Kelderman si è portato in testa, ma ha rallentato l'andatura, e questo per consentire anche a Gesink, che non era troppo lontano, di rientrare, e chiaramente sono così ritornati sotto altri corridori, quindi corridori di mezza classifica, come Delacruz, come Carti, come Buitrago, come Rubio, come ancora una volta Christian Rodriguez, lo stesso Storer, e anche Martinez, e se sia pure, sebbene fosse molto in difficoltà, riuscirà a rientrare nella successiva discesa, quindi ancora una ventina di corridori davanti, dietro il povero Almeida a inseguire da solo, con una ruota atti da parte, sempre da Jumbovisma, una Jumbovisma che ha dimostrato il sapoteo assoluto nella frazione odierna, e dobbiamo, il meglio deve ancora venire, come vedremo, e Almeida da solo inseguire, appunto, poi è stato successivamente atteso da Fisher Black, però nulla da fare, il portoghese non riuscirà più a rientrare, davanti da appunto la situazione si è calmata, sempre che si incattiva con Kelderman alla ruota, e poi tutti gli altri big, ad eccezione appunto di Almeida e di Evenepul, e con questa situazione si è arrivati ai piedi del Tourmalet, nessuno ha provato a mettere in difficoltà la corazzata olandese, c'erano ancora altri uomini che non abbiamo ancora citato, nel gruppo dei migliori, ad esempio López-Pérez della Littrechle, e anche Max Poole della DSM, mentre invece Bardet si è staccato sulle prime lampe del Col de Spandelle. Comunque, sempre Gaysink davanti, dopo tre chilometri chiaramente ha finito la benzina, ha tirato tutto il tratto in pianura e tutto lo bischio e buona parte dello Spandelle, quindi un lavoro oggi enorme quello dell'olandese, e poi è entrato in azione Kelderman, che oggi era in ottima giornata, ma l'avevamo visto brillante anche nelle prime tappe della vuelta, prima di perdere terreno per via di alcune cadute, e piano piano l'andertura di Kelderman, seppur apparentemente non fortissima, ha iniziato a fare selezione nel gruppo della Maglia Rossa, sono andati in difficoltà, appunto, alcuni di quelli che si erano staccati in precedenza, come De La Cruz, come Yucati, come Rubio, come Buitrago, come Poole, si è staccato subito, fin dalle primissime lampe, Martinez, che è stato atteso da Storer, è stato in assoluto il primo a staccarsi sul Tourmalet, con ancora di Ava Gaysink, e quindi davanti sono rimasti 11, ecco, da segnalare che la posizione dei corridoi, nel momento in cui Kelderman stava tirando, c'erano alla sua ruota Binggaard e Cus, poi Aiuso, mentre Soler, che è stato brillantissimo sul Cold Spandelle, più di Aiuso in quella fase, Soler si manteneva nelle retrovie del gruppo, e idem di casi anche per Primoz Roglic, quindi una posizione anomala per entrambi. Che cosa voleva dire questa situazione? Lo si è capito a 8 chilometri dal traguardo, quando finalmente Binggaard è acceso la miccia. Alla ruota del vincitore del Tour de France si è portato a Aiuso, e poi sono rientrati alcuni degli altri uomini di classifica. Ecco, Soler si è capito perché era nelle retrovie del gruppo Maria Rossa, e perché era in difficoltà, infatti il catalano si è staccato, con lui anche Vlasov e Kras, il leader della Totale Nergis, che è già stato piuttosto brillante sul Spandelle. Soler, che fin qui aveva veramente sorpreso in positivo in questa ruota, ricordiamo, secondo della generale, e oggi è tornato nei ranghi, è tornato al suo livello, al livello di un corridore che è arrivato nono appunto in classifica generale alla volta, e oggi ha fatto una prestazione analoga a quella del 2019, quando ottenne questo risultato. Soler non riuscirà più a rientrare, e continuerà sempre nella sua azione con una ruota classe Vlasov, un po' in difficoltà anche Landa, che faceva un po' l'elastico tra il gruppo dei migliori, insomma tra lo staccarsi e rientrare nel gruppo dei migliori, e poco dopo il primo scatto, Wingard ci riprova, e questa volta riesce a fare il vuoto. Mas prova ad andare lì dietro, ma non ce la fa, e il vincitore del Tour de France, sebbene non sia decisamente ai livelli di due mesi fa, il vincitore del Tour de France pian piano aumenta il proprio vantaggio, dietro ci inciscono un po', Mas per un po' prende qualche metro di vantaggio su tutti gli altri, e qui c'è un'azione impressionante di Sepp Kuss, che lascia sul posto gli altri seguitori, che erano agli uso Witte de Brox, Roglic, e direi che qui ci fermiamo, e Kuss si riporta su Mas, e poi addirittura scatta in prima persona, cioè dall'impressione di fare quello che vuole, di onnipotenza assoluta, poi però, dopo aver guadagnato qualche metro sul spagnolo della Movistar, Kuss rallenta la propria andatura. La rallenta perché non aveva per andare più forte, magari prendere Wingard, o perché, o per scelta dell'ammiraglia, ma probabilmente la prima opzione, tutto sommato, abbiamo visto Kuss avere questi scatti fortissimi, e poi invece cedere un po' nel finale, in alcuna occasione. Kuss viene ripreso da Mas, e poi pian piano rientrano anche Aiuso Witte de Brox e Roglic, che fin qui si è sempre mantenuto a ruota, senza dare l'impressione di poter fare la differenza, a differenza, scusate il gioco di parole, e a differenza, se vi ha tratti di quello che ha fatto Cuss. E durante i Wingard procede, e dietro un po' accelano, un po' rallentano, nel momento, nei momenti in cui rallentano, l'Anda rientra, e poi staccarsi di nuovo. Aiuso prova qualche volta a scattare, ma senza mai riuscire a fare la differenza, e a fare la differenza, invece, ancora una volta, Cuss, che a 3-4 km dal traguardo circa, scatta, e riesce a distanziare, sia pure non di molto, perché rimangono comunque a tiro, gli uomini che lo accompagnavano. E anche guadagnare del terreno nei confronti di un Wingard, che sì, è stato oggi riuscito a fare vuoto, ma non è riuscito a infliggere tantissimi distacchi rivali. Comunque, Wingard avanti, Cuss alle sue spalle, Mas, dopo che aveva tirato, dopo che è stato molto attivo nei chilometri precedenti, va un po' in difficoltà nel finale, e fatica a reggere il ritmo di Aiuso, piuttosto che Witte e Brox, con Rogic, che si mantiene invece sempre alla loro ruota. E' un Rogic che mantiene alla loro ruota, però, fino alle ultime centinaia di metri, quando fa uno scatto dei suoi, e riesce a saltare tutti i corridori che lo accompagnavano. E quindi, dominio assoluto del Jumbo-Visma. Primo Wingard, secondo Cuss, terzo Rogic, e poi gli altri a leccarsi le ferite di fronte allo strapotere evidenziato oggi dalla compagine giallonera. E andiamo a vedere, ora, l'ordine d'arrivo di questa tappa che ha segnato profondamente questa edizione della Vuelta 2023. Wingard vincitore, Cuss a 30 secondi, Rogic a 33 che in un'amen ha quasi recuperato il terreno nei confronti del compagno di squadra. Certo, oggi abbiamo visto che Cuss è più forte degli avversari delle altre squadre. Cosa che io non pensavo, e che non aveva dimostrato negli arrivi in salita precedenti, forse salite più brevi, meno adatte allo scalatore stranunitense, che di tanto in tanto aveva perso qualche secondo nei confronti di alcuni dei diretti rivali. E oggi, invece, è stato lui a staccarli, e questo vuol dire che Cuss, cosa che io pensavo fosse improbabile fino alla frazione odierna, vuol dire che Cuss può vincere la Vuelta. E se Cuss vincesse la Vuelta, però, i preparatori atletici di tutte le altre squadre, insomma, dovrebbero farsi delle domande, perché noi diciamo che, o meglio, c'è questa idea per cui fare giro e tour ad alto livello è impossibile. Cuss al giro e tour non è arrivato nei primi dieci. Al giro perché ha perso dieci minuti in una tappa in pianura, mi pare, in campania. E al tour perché è caduto nella tappa dei Vorgi, l'ultima tappa vinta da Progaciar, dove c'era il Cold Blaster Vase nel finale, perché altrimenti sarebbe finito ampiamente nei primi dieci, facendo il gregario, sia al giro che al tour. E oggi, dopo tredici tappe di Vuelta, troviamo leader della generale e dimostra, appunto, di andare più forte dei corritori delle altre squadre. Aiuso, quarto, a 38 secondi. Aiuso pensavo che potesse provare a fare il botto oggi su una salita come il Tourmalet, simile a quella dell'Albura, dove ha dominato il Giro di Svizzera. Invece sì, è andato benino e sicuramente sul Tourmalet si è ripreso dopo che era un po' con difficoltà sul Coldest Vandale, però non è riuscito a fare la differenza, quantomeno è riuscito a farlo rispetto ai compagni di squadra e a questo punto diventa il capitano unico della UE. Oggi molto bene Wittebox, quinto a 38 secondi, Mas, appunto, in leggera difficoltà nel finale, sesto a 40 secondi, poi Landa che è appunto rimasto nel mezzo, settimo a 1 e 15, Blasso, vottavo a due doji, Krasso, oggi bene, nono a 2 e 32, entrambi nel finale hanno staccato Soler, decimo a 3 e 8, e quindi rientra un po' nei ranghi il corridore catalano della UE, e poi è decisamente più lontano di tutti gli altri. Carti, a differenza di altre occasioni, ha chiuso abbastanza forte, però il suo distacco già sfiora quasi 5 minuti, undicesimo a 4 e 42, Della Cruz, anche per lui un buon finale, perché si è staccato prima di corridori che poi gli sono arrivati alle spalle, dodicesimo a 5 e 16, Buitrago a 5 e 19, Juan Pedro Lopez che a lungo è rimasto nel gruppo dei migliori, è stato lui l'ultimo a staccarsi rispetto ai primi dieci, che arrivati al traquadro, oltre a Kelderman che si stava tirando, Lopez quattordicesimo a 5 e 29, e poi Almeida che ha inseguito tutto solo, e ha continuato comunque a superare i corridori che avevano ceduto al gruppo di testa, però è stato di fatto che il suo distacco alla fine è stato pesantissimo, 6 minuti e 47, certo che si è staccato da 80 corridori, ed è arrivato quindicesimo, insomma, è sempre decisamente enigmatico il portoghese della UE, poi Bookman sedicesimo a 7 minuti e 27, che era stato molto attivo in particolare sullo Bisk, Kelderman diciassettesimo a 8 e 04, Martinez anche per lui, oggi crissima, ci sta, è al suo primo grande giro, diciottesimo a 8 e 25, Rodriguez giannovese a 8 e 44, Rubia mollato nel finale a 11 e 09, e poi Storer ventunesimo a 14 e 38, che ha atteso Martinez sulle prime lampe del Tourmalet, Geysink ventiduesimo a 5 e 15 e 46, oggi grandissimo lavoro per lui, e Pool ventiduesimo a 16 e 29, questi 23 corridori sono quelli che avevano, hanno approcciato insieme il Tourmalet, ad eccezionale di Almeida però, che era staccato ricordiamo, e poi per tutti gli altri distacchi siderali, Dubé, del totale energista a 18 e 27, Walter che per un po' era rimasto con Almeida a 19 e 21, discreta prova per Simone Petilli, che chiude in questo, sostanzialmente in questo quintetto, a 22 minuti e 14, quindi già il ventiseisimo Diaz chiude oltre 20 minuti dal vincitore, 22 e 14 il distacco di Petilli, poi troviamo a 24 e 23, un gruppetto con, tra gli altri, Bardeka, Russo, Caicedo, questi corridori si sono staccati nelle prime lampe dello Spandell, De Ghent, 42esimo a 26 e 15, insieme a due corridori, insomma, importanti come Woodpools e Geren Thomas, insomma, fa un po' ridere la dichiarazione di De Ghent alla vigilia, che ha promesso un premio per chi lo avrebbe spinto sul Tourmalet, parliamo di un corridore che ha vinto in solitudine in vetta allo stadio, ma erano altri tempi. Poi, adesso andiamo a cercare l'ho finito Evenepul, perché qua non lo troviamo ancora nell'odio ed arrivo, anche Bernal poi ha mollato dopo essersi staccato all'inizio da Spandella, a 27.01, ed ecco qua, Evenepul, sessantesimo, a 27 minuti e 05, attorniato dai compagni in squadra, Cataneo, Nox e Irt, anche il giovane Van Helt, in questo gruppetto, nonché Cron, che è stato protagonista sullo Pischie, ma poi ha ceduto, tanto da arrivare appunto nel gruppo di Evenepul, e via via tutti gli altri, al momento in cui sto registrando, solamente 73 corridori sono arrivati al traguardo, ma ecco gli altri, appunto a dimostrazione di quanto 2 sia stata la tappa, e a 31.57 Andrea Piccolo guida questo grosso gruppo, con dentro anche Oshas, che sta facendo una discreta classifica per la Cofidis, e poi i corridori che non hanno più nulla a chiedere in questa volta, anche che Emner oggi è ritardo, Ighita, come detto, si è staccato molto presto, e poi Gunners Obrero, che dopo essere stati per un po' nel gruppo di Evenepul, si sono rialzati nel finale, e sono arrivati insieme a 32.19, a discutere magari delle loro questioni familiari, e poi insomma via via tutti gli altri, Dainese insieme a Groves in questo gruppo, 33.42, con dentro anche Mollema, e poi ecco a chiudere, 156 esero, probabilmente ultimo di giornata, anzi sicuramente, Davide Cimolai, con un distacco di 35 minuti e 45 secondi, si è ritirato Callum Scotson, quindi ennesimo ritiro per il Tingeico, non sono partiti Ghis, Jussom caduto ieri, e il campione Venezuelano Ulal, che si era ben comportato nelle volate. Andiamo a vedere come cambia questa classifica generale, con la Jumbo Vilma sugli scudi, che infatti ha ora tre uomini ai primi tre posti, lo statunitense in maglia rossa, sempre, Rogic secondo 1.37, Wingard e terzo 1.44. Poi, ripeto, se Wingard fosse stato quello del Tour, partendo 8 km dal traguardo, come è avvenuto oggi, avrebbe vinto con almeno due minuti di vantaggio su tutti gli altri, e non con i 30 secondi, con cui è arrivato su Curs, e poco di più su Rogic e gli altri big. Poi, quarto, Ayuso, che guida così la volta degli altri, con un distacco di 2.37, Massa 3.06, Soler, che scivola al sesto posto a 3 minuti e 10, Landa, che sta comportando in maniera più dignitosa, sicuramente in crescita, dopo aver faticato nelle più etappe a 4.12, Blasov oggi ha avuto una battuta d'arresto abbastanza importante, ottavo a 5.02, ed è minacciato dal compagno di squadra, Whitbrooks, che è a 5 minuti e mezzo, almerita salva un posto della top 10, però lontanissimo, a 8 minuti e 39, e viene agganciato da Steph Kras, poi vedremo appunto se almerita ha risentito della caduta di ieri, o semplicemente ha pagato le salite poste nelle prime parti del percorso, lui che non è un corridore che stenta a carburare nelle prime parti della tappa, poi troviamo Jukarti a 12.9.14, Della Cruz a 9.26, Martinez anche lui sprofonda a 14.10.03, quindicesimo Butrago a 11.32, e poi lontanissimi e tutti gli altri, crollo totale per Evenepul, diciannovesimo 27 minuti e 50, vedremo anche per lui, vedremo che problemi ha avuto oggi, vedremo che si proseguirà anche questa volta, oppure se deciderà di abbandonare per magari recuperare da eventuali problemi di salute che ha avuto nella giornata odierna, quindi insomma fa specie questo crollo incredibile del vincitore di un anno fa. Andiamo a vedere le altre classifiche, ovviamente la classifica appunto è sempre guidata da Groves con 203, davanti a Van de Beek con 85, a Rogic con 80, ah tra l'altro Rogic nella tappa di ieri, qua di Saragossa, ha guadagnato 4 secondi di abbuono al traguardo volante, e oggi li hanno guadagnati in cima allo Spandell, però perché c'erano gli abbuoni in quel punto, ha guadagnato 4 secondi Vinggaard e 2 secondi a Iuso, e 6 ne aveva guadagnati Store che l'ha passato in vetta, uno Store che punta a questo punto anche alla classifica degli Scalatori, e il classifica degli Scalatori che però con l'arrivo sul turmalè che assegnava tantissimi punti è guidata da Vinggaard con 36 punti, Kusner 27, Store 25, la classifica dei giovani vede ora a Iuso leader con 2,56 su Wittebox, 6,02 su Almeida, e anche qui l'ha venne post profondo al settimo posto, staccato di 25 minuti e 13, mentre per quanto riguarda la guardatoria squadre non ce l'abbiamo, ma ovviamente la Jumbovisma è il leader, e oggi ha guadagnato tantissimo terreno sia sulla UAE che sulla Bahrain Victorious che su tutte le altre. Adesso con questa situazione di dominio totale dei cosiddetti calabroni, approcciamo la quattordicesima tappa dove ci sarà ancora tanta salita, dove magari qualcuno potrebbe pagare gli sforzi del turmalè. Da Softair de Beane all'Arabbeagua si ritorna in Spagna. Le prime due salite, abbastanza vicine l'una con l'altra anche se c'è un breve tratto di pianura o leggera salita tra una scesa e l'altra, sono due salite molto impegnative, sia il Col du Ser che il port dell'Arrau, dopodichè discesa, una breve salita del portiglio dell'Azhar, ancora discesa e poi l'ultima salita di l'Arabbeagua, una salita di 9,4 km e 6,3%, le lampe più impegnative sono le prime, i primi 5-6 km, per poi invece spianare decisamente nel finale, ecco andiamo se riusciamo a trovare brevissimamente le varie salite, questo è il Col du Ser, una salita già questa piuttosto impegnativa, con diversi tratti oltre il 10%, spesso nella prima parte, il port dell'Arrau è anche una salita di 15,1 km e 7,8%, però è una pendenza falsa perché ci sono 3 km di falso piano in prossimità della vetta, anche qui sono punti ben oltre la doppia cifra, poi c'è il breve portiglio dell'Azhar, breve ma con tratti anche qui molto impegnativi, e poi il porto dell'Arrau è una salita piuttosto dura nei primi 7 km, decisamente meno negli ultimi due, ma che dopo con la tappa rodiana nelle gambe e con anche l'Ul Ser e il Larrar potrebbe comunque fare le differenze. Appuntamento quindi a domani, sperando che possa esserci nuovamente spettacolo e arrivederci a tutti.